Non è stata una inaugurazione ufficiale e il Comune ha tenuto più volte a precisarlo. Quella avverrà il 29 aprile, ma intanto la Sala della Repubblica del Teatro Rossini ha avuto ieri sera un'anteprima che lo ha restituito, migliorandolo al rinnovato spazio della cultura cittadina. I lavori nella Sala della Repubblica hanno rappresentato un discorso a sé stante rispetto all'ammaluramento del resto del Teatro Rossini, sul seguente al sisma sul quale si sta ancora lavorando. Questo è un teatro nel teatro da 120 posti occupati ieri in occasione della giornata internazionale del teatro e dell'incontro fissato con la Fondazione Forame a Pesaro per la memoria viva di Dario e Franca, un incontro che inizialmente era stato calendarizzato a Palazzo Gradari. È un nuovo teatro a tutti gli effetti, un vero ridotto del Teatro Rossini. La Sala della Repubblica già esisteva naturalmente, ma non era isolata acusticamente dal resto del teatro. Questo è uno degli elementi principali che ci ha spinto ad agire. In più abbiamo un salone ora molto più completo, molto più grande, che permette di utilizzare tutta la superficie senza più le due colonne che ne limitavano fortemente l'utilizzo. Un'estetica riportata un po' al gusto del 34, l'ultimo grande intervento pre-restauro di intervento strutturale. Ora abbiamo la possibilità di farlo funzionare veramente tutti i giorni per le conferenze, per la musica, per gli incontri, anche per momenti conviviali, per le residenze di danza, per le prove. Siamo sicuri che lavorerà veramente tanto. L'incontro con la Fondazione Forame è stato propedeutico anche ai ragionamenti sul futuro assetto di Rocca Costanza, che diventerà sede del Museo della Fondazione per raccogliere e tramandare il patrimonio lasciato da Dario e Franca. Questo momento dell'anno sarà sempre un momento importante perché intreccerà il 26 di marzo del compleanno di Dario Fo e il 24 marzo è la giornata mondiale del teatro. Vorremmo che questa settimana diventasse a livello cittadino, ma anche provinciale, con la capitale 24, sempre più un momento di festa per tutti i teatri, di apertura, di incontro col pubblico. Quindi iniziamo oggi e l'idea è di non fermarsi. Grazie a tutti.